Vangelo di Marco Primo Capitolo Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio Come sta scritto nel profeta Eseia Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero Egli preparerà la tua via Voce di uno che grida nel deserto Preparate la via del Signore Raddrizzate i suoi sentieri Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto E proclamava un battesimo di conversione Per il perdono dei peccati Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea E tutti gli abitanti di Gerusalemme E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano Confessando i loro peccati Giovanni era vestito di peli di cammello Con una cintura di pelle attorno ai fianchi E mangiava cavallette e miele selvatico E proclamava Viene dopo di me colui che è più forte di me Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sangri Io vi ho battezzato con acqua Ma egli vi battezzerà in Spirito Santo